Buongiorno a tutti, oggi parliamo di embriologia. Embriologia è una materia insegnata all'interno del percorso di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici che avviene in IFROM. A cosa serve questa materia? È una materia fondamentale che all'interno della nostra accademia viene insegnata in 32 ore. Queste 32 ore servono per poter conoscere a fondo il mondo dal quale noi proveniamo. A questo punto potremo poi applicare le manovre del massaggio in modo più specifico, in modo più preciso ed è quindi il trait d'union tra la vera teoria del mondo da cui noi proveniamo e il massaggio finale, terapeutico e non, che noi possiamo applicare alla fine del nostro percorso formativo. Se vi interessa sapere com'è l'embriologia insegnata in IFROM e quali sono le sue applicazioni, vi invito a guardare sul sito www.ifro.it